Erano le 9 di domenica scorsa quando da Isola del Piano era scattato l'allarme per un vasto incendio che si stava propagando con rapidità. Infatti a causa del forte vento e delle alte temperature erano andati in fiamme 3 ettari di bosco e terreni coltivati. Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e dei volontari dell'antincendio boschivo, i carabinieri forestali della stazione di Pesaro sono riusciti a individuare in modo chiaro e rapido il punto di innesco delle fiamme, poi sono risaliti all'autore del rogo. I militari hanno utilizzato il cosiddetto metodo delle evidenze fisiche, cioè una tecnica di investigazione di polizia scientifica che consente di scoprire anche la causa e il mezzo che ha provocato l'evento, il tutto con uno studio delle tracce percettibili o dei segni che la propagazione del fuoco lascia a terra e sulla vegetazione. Così le forze dell'ordine hanno rintracciato il responsabile che per sua stessa missione stava impiegando attrezzature per eseguire dei lavori sul materiale metallico da cui sono scaturite le scintille che hanno dato origine all'incendio. La vegetazione secca e le condizioni climatiche hanno favorito il rapido estendersi delle fiamme ed ora l'uomo, un sessantenne residente a Isola del Piano, è stato denunciato in stato di libertà per incendio boschivo colposo, un reato che prevede una pena da 1 a 5 anni di carcere. Inoltre, nella stessa giornata, un altro rogo scoppiato nelle prime ore del mattino aveva bruciato circa 20 ettari di bosco nel comune di Macerata Feltra, nella provincia pesarese. A farne le spese sono stati alberi di roverella, carpino nero e una pineta di pino nero andata completamente distrutta dalle fiamme che hanno interessato le chiome delle conifere. Le indagini, tuttora in corso, sono particolarmente complesse per la vastità dell'area interessata e sono portate avanti dai militari della stazione locale dei carabinieri forestali. I primi riscontri non fanno escludere, anche in questo caso, l'origine dolosa.